Il presidente della Giunta regionale, Luciano D'Alfonso, ancora una volta nel merino dell'onorevole Fabrizio Di Stefano e del consigliere regionale e presidente della Commissione di Vigilanza, Mauro Febbo, al centro delle dure critiche dei due esponenti di Forza Italia, è un argomento che da anni è al centro di polemiche e discussioni, di dichiarazioni smentite, di promesse e di passi indietro. Si tratta della Fondo Valle Sangro, il cui completamento sarebbe in alto mare, con il rischio di perdere il finanziamento già concesso con lo Sblocco Italia, nonostante le tante assicurazioni e rassicurazioni del governatore. Solo bugie e fumo negli occhi per Febbo e Di Stefano, soprattutto alla luce delle ultime numerose richieste e prescrizioni da parte della Commissione Via. Dopo un anno e mezzo siamo praticamente al punto di partenza, dice Di Stefano. La Regione aveva detto che il 31 agosto dell'anno scorso sarebbero partiti gli appalti, poi aveva spostato il 31 ottobre dello scorso anno, sempre su documenti ufficiali, e poi nel corso di una conferenza con i sindaci per il Masterplan aveva parlato di marzo del 2016. Siamo arrivati a luglio e veniamo a sapere che con la nuova conferenza di servizi del Via, con 147 pagine di prescrizioni, l'avvio di questi lavori ormai vanno per le calende greche. Noi ricordiamo benissimo quando Marchionne venne in Abruzzo e alla sua richiesta specifica, non di avere finanziamenti per l'impresa, ma di dotare il territorio di infrastrutture importanti, c'era stato un impegno a chiare lettere del Presidente D'Alfonso. Ma evidentemente gli impegni del Presidente D'Alfonso non trovano mai attuazione. Riteniamo che, allo stato dei fatti, questa opera è importantissima per il territorio, non soltanto per il territorio industriale, ma per tutta l'area del Basso e Alto Sangro e per l'area frintana. Purtroppo non vedrà la luce neanche nei prossimi mesi, e io credo neanche nel corso dell'intera legislatura del Presidente D'Alfonso. E un'altra bufala che viene ormai a sommarsi le tante che D'Alfonso sta come gemme regalando al territorio, non dimentichiamo che proprio su questo argomento anche l'automotive ormai mi sembra abbandonato e arenato. Crediamo che qualcuno debba rispondere a tutto questo. Grazie a tutti.